e ciao a tutti ragazzi come potete vedere altair raggiunge assassin's creed valhalla attraverso un contenuto disponibile gratuitamente per tutti per poterlo ottenere ragazzi vi basterà accedere al menu principale come vedete nel riquadro qua in fondo a destra ricevi la ricompensa divina gratis per ringraziarti della dedizione del supporto dimostrato in questi anni ti abbiamo preparato un dono speciale che contiene oggetti elementi estetici e opali tutti gratis clicca su questa notizia per accedere e ottenere la ricompensa divina una volta che avrete fatto ciò ragazzi i doni saranno diversi tra questi vi è proprio il completo di altair una volta che lo avrete riscattato in questo caso come potete vedere gratuitamente vi basterà premere sul tasto acquista nel caso di playstation il tasto quadrato e una volta che accederete al vostro salvataggio otterrete le varie ricompense questo ovviamente riscattabile per tutti i salvataggi che avete a disposizione come vedete a proprio schermo a destra appaiono i vari oggetti tra questi ripeto come vedremo tra poco c'è il completo di altair per indossarlo vi basterà sostituire la parte del busto mentre per quanto riguarda tutte le altre parti potrete lasciare quelle a vostra scelta per quanto riguarda l'elmo per poterlo nascondere vi basterà premere sempre nel caso di playstation sopra di esso con il tasto r3 video molto breve ragazzi ma comunque considerando che era molto semplice da ottenere vi metto più che altro questo video per informarvi nel caso avete messo magari momentaneamente da parte assassin's creed varalla vi invito quindi ad accedere e ottenere queste ricompense come al solito rinnovo l'invito a scrivermi nei commenti se avete bisogno di altri aiuti e ragazzi un saluto e al prossimo video